buongiorno a tutti direi che possiamo iniziare questo breve webinar che ci vedrà impegnati per circa mezz'ora webinar nella quale parleremo di tecnologie additive per la stampa 3d di metalli ponendo il focus su quelli che sono i filamenti metallici per stampanti 3d che sfruttano la tecnologia fused filament fabrication e lo faremo assieme a due ospiti docenti presso l'università di catania che a breve si presenteranno per chi si collegasse con noi per la prima volta innanzitutto vi chiedo magari di darmi un feedback sulla bontà dell'audio e se riuscite a visualizzare il mio schermo per poter attivare la vostra chat che vi sarà vi sarà utile in un secondo momento per porre le vostre domande vi invito a visualizzare la vostra barra di controllo nella parte più a destra alla voce altro troverete la possibilità di attivare la chat perfetto arrivano i primi feedback perciò io proseguo quindi per chi si collegasse con noi per la prima volta io sono angelo paradiso application engineer di crea 3d crea 3d è la divisione commerciale di questo ecosistema crea che vede al suo interno quattro business units due commerciali appunto crea 3d e crea med e una di due divisioni produttive fast parts e fabrics vi anticipo molto brevemente quella che è la tecnologia del meta fff della quale abbiamo in realtà già discusso nel dettaglio in un webinar dedicato che trovate sia sulla pagina webinar di crea 3d sia sul canale youtube di crea 3d volendo riassumere la stampa di questi filamenti metallici beh questa stampa utilizzando stampanti 3d si introduce in quello che è un già collaudato processo del metal injection molding per ottenere una green part una green part che poi sarà trattata in forni per dei binding di tipo catalitico che straggono elegante e poi forni per la sintetizzazione che portano appunto quella che è la polvere metallica alla temperatura tale per ottenere il pezzo appunto sintetizzato lasciando magari quella che è la parte più comparativa delle varie tecnologie agli ospiti qualche info più a livello magari commerciale di fatti il costo per questi trattamenti a cui facevo riferimento varia tra i 50 e 60 euro per chilo di materiale e questo la rende una tecnologia molto competitiva per la stampa del metallo qui vedete anche uno dei service che in italia si occupa di eseguire questi trattamenti fa sparse fanno appunto dei binding e sinterizzazione e potete inviare a loro anche dei file CAD per avere un'analisi di stampa e un'eventuale analisi di fattibilità utilizzando questa tecnologia ma ora magari non rubo altro tempo a quella che è la trattazione più interessante sicuramente di questo webinar dando la parola a Claudio anzi a Gianluca ci cala prima poi magari a Claudio Tosto che si presentano e niente a voi la parola grazie grazie angelo sono devi darmi la possibilità di condividere lo schermo lo schermo mi presento sono Gianluca Cicala e sono professore ordinario di scienza e tecnologia dei materiali presso l'università di Catania sono anche responsabile del come coordinatore nazionale del progetto PRIN Multiple Advanced Materials Manufactured by Additive Technologies di cui darò qualche cenno alle slide successive e qui con me c'è l'ingegner Claudio Tosto che attualmente sta svolgendo il suo dottorato industriale finanziato dal MIUR che è intitolato Advanced Materials for Additive Manufacturing ed è un dottorato che oltre alla partecipazione dell'università di Limerick vede anche il supporto della ditta Advanced Composite Solution perché è interessata a alcune soluzioni che stiamo mettendo a punto relative all'utilizzo della stampa additiva nel mondo dei compositi come vedete la nostra presentazione di oggi però è più incentrata sull'utilizzo della stampa a filo per la realizzazione di parti metalliche solo un breve cenno al laboratorio di cui sono responsabile il laboratorio si chiama Polymers and Composite Lab trovate nella parte centrale la slide sia il canale YouTube sia un link a un tour virtuale e come vedete dalle attrezzature che sono rappresentate in questa slide il nostro laboratorio si occupa sia della parte di caratterizzazione sia di tipo chimico fisica viscoelastica che meccanica ma oltre a questi aspetti di caratterizzazione copriamo anche aspetti legati alla lavorazione in particolare in questa porzione della slide vedete Claudio all'opera sulla linea di estrusione che abbiamo è una delle tre che ci permette di realizzare dei fili in maniera proprietaria su formulazioni che mettiamo a punto e poi chiaramente di andarle a testare sulle stampanti aperte oltre a queste stampanti aperte abbiamo anche una stampante industriale Fortus 400 MC e una Object Connex che chiaramente sono chiuse e quindi utilizziamo più per la prototipazione in particolare la Fortus l'abbiamo usata per Advanced Composite per realizzare le parti in composito non rubandovi altro tempo vado a illustrarvi quello che sarà il contenuto della nostra presentazione io coprirò la parte più generale sul contesto del Metal Additive Manufacturing inteso in linea generale darò un cenno a quello che è il contenuto del progetto PRIN di cui sono responsabile e un overview della stampa a filo con sistemi ibridi metallo, polimero poi lascerò la parola a Claudio che invece esporrà un caso studio che ha sviluppato durante il dottorato e che abbiamo anche pubblicato che conterrà anche dei riferimenti ad applicazioni e del cost modeling applicato a questa tecnologia. Riprenderò io la parola solo per l'ultima, per la chiusura per illustrarvi molto brevemente alcune nuove tecnologie, alcune di queste siamo anche attivi e alcune applicazioni future che stiamo sviluppando all'interno del progetto PRIN. Allora, andando a quello che è l'aspetto generale, cioè il contesto nel quale ci muoviamo probabilmente alcuni di voi sapranno che nel punto di vista industriale le tecnologie per la produzione in stampa 3D di parti metalliche sono abbastanza consolidate esistono varie alternative, in particolare le alternative che vedete con le loro sigle riportate in alto sono per quanto riguarda l'SLM, l'EBM, l'ANCE e l'IBAM, tutte tecnologie che utilizzano per lo più polveri metalliche e alte sorgenti di energia per poter, per esempio nel caso dell'SLM che è quella che troviamo più dettagliata nella slide, sintetizzare le polveri metalliche. Nel caso del binder jet abbiamo sempre un letto di polveri metalliche ma non utilizziamo una sorgente ad alta energia e compattiamo la forma dell'oggetto da stampare tramite l'utilizzo di un binder polimerico e quindi è necessario poi andare a fare una rimozione e un consolidamento successivo. Queste tecnologie hanno in comune sicuramente la necessità di alti costi di investimento considerando per esempio l'SLM iniziamo a parlare di macchine anche nella loro versione diciamo più tra virgolette economiche con costi intorno al mezzo milione di euro e costi più alti se andiamo a incrementare le dimensioni o utilizzare più laser ma anche con il binder jet salvo una recente applicazione di X1 abbiamo sempre a che fare con macchine che richiedono costi notevoli. Un vantaggio sicuramente è che questi macchinari essendo già abbastanza sviluppati offrono un'ampia gamma di materiali che possono essere lavorati però ci sono problemi a livello di precisione e a livello di utilizzo esteso per esempio di supporti nel caso dell'SLM. Questo è importante, non so quanti di voi hanno magari esperienza con l'SLS nell'SLS che è sempre una stampa a polveri con laser è una delle poche tecniche di stampa additiva che non fa ricorso ai supporti e quindi non vedrete mai qualcosa del genere invece nel caso dell'SLM dovete necessariamente supportare molte delle parti sia per problemi di contrazione termica che di densità della polvere però capite bene che andare a rimuovere un supporto metallico non è sicuramente la cosa più semplice e soprattutto non utilizziamo tutto il volume a disposizione della macchina questo è un problema che non si verifica col binder jet infatti vedete qua un esempio di utilizzo completo in 3D quindi del volume di stampa tuttavia se andiamo a guardare per esempio le finiture di superficie siamo ancora su valori abbastanza alti e poi è necessario quindi andare a fare un post trattamento delle parti che vengono ottenute tramite queste tecniche sicuramente però il problema principale se vogliamo sintetizzare è quello dell'utilizzo di polveri metalliche non so se vi è mai capitato di andare a leggere un MSDS quindi una scheda di sicurezza di polveri come il 316L o altre polveri d'acciaio e sicuramente avrete notato che non sono materiali che si possono trattare con leggerezza quindi è necessario oltre alla macchina disporre di sistemi di aspirazione tutto questo chiaramente aumenta anche quelli che sono i costi di investimento al di là del problema della sicurezza per questo motivo soprattutto per risolvere e rendere questa tecnologia di stampa di metalli adatta anche a piccole e medie imprese si sono andate affermando negli ultimi anni delle tecnologie che partono dalla mutuano sostanzialmente il loro approccio dal metal injection molding nel metal injection molding si stampa con macchine di stampaggio e iniezione delle miscele di polimero e metallo e successivamente si va a rimuovere la parte polimerica per ottenere il componente metallico nel caso del metal FFF l'approccio è simile ma come avviene normalmente anche per la stampa a filo andiamo a sostituire la stampante a iniezione con una stampante 3D a filo quale quella che adesso vi farò vedere nella prossima slide i leader in questo settore sono sicuramente Dexon Metal e Mark Forge che sono state tra le prime a partire con questa tecnologia ma è ancora una tecnologia abbastanza recente Dexon Metal è una ditta che è stata formata nel 2015 quindi stiamo parlando di tecniche molto recenti e attualmente anche un colosso come Bass si è lanciata su questo settore andando a produrre dei materiali che vedremo più in dettaglio nella parte che presenterà Claudio che sono adatti alla stampa su macchine generiche quindi su stampanti che tutti noi abbiamo sulle nostre scritte solo qualche dettaglio sul process flow quindi la stampa della green part è di fatto una stampa tradizionale a filo quello che poi va a cambiare è gli step successivi nel caso del primo step il debinding vedete in questo screenshot la rappresentazione del processo questa immagine fa riferimento alla parte così come stampata dove le sferette bianche sono le nostre particelle metalliche fate caso anche al fatto che e non è un caso sono rappresentate con dimensioni diverse perché vedremo questo è un aspetto importante per occupare bene il volume quindi questa distribuzione bimodale delle particelle mentre col nero si va a rappresentare la matrice polimerica che non è mai una matrice a singolo componente nel debinding quello che si fa nel caso del basso è un debinding catalitico si va a rimuovere parte del sistema polimerico non tutto perché vedete che nella brown part rimane una certa frazione di polimero che è necessario per mantenere la consistenza strutturale della nostra parte dimensionale successivamente si va a realizzare la sintetizzazione quindi con una rimozione del residuo del polimero ma soprattutto con una sintetizzazione delle particelle metalliche in questo step quindi si vanno a formare i colli tra le particelle e si attiva la diffusione ad alta temperatura nel caso del basso parliamo di circa 1500 gradi che porta alla creazione di parti dense chiaramente non sono totalmente dense infatti vedete questa slide la presenza di alcuni pori residui e vista l'alta temperatura avviene anche una cristallizzazione del materiale metallico come vedremo anche in alcune slide presentate da Claudio è importante osservare come accennava già Angelo che la parte brown subisce un ritiro volumegico che per di più non è isotropo infatti vedete che per esempio BAS riporta nei suoi datasheet delle stringhe che nel piano assumono valori pari a 16% mentre lungo l'asse Z che è quello su cui agisce la gravità in questa disposizione sono maggiori il 20% vedremo come nella nostra presentazione questi valori poi vadano trattati con cura cioè questi sono valori dati da da BAS però dipendono anche da come si stampa l'oggetto e da come viene sintetizzato quindi anche dall'orientazione che sapete essere un problema anche per la stampa FFF tradizionale andando a vedere un attimo quello che è lo stato dell'arte soprattutto i requisiti di budget per le macchine attualmente presenti sul commercio io le distingo sulla base di produttori diciamo consolidati come possono essere Mark Forge e Dexon Metal che oltre alla stampante offrono anche i sistemi di binding e di sintetizzazione e come vedete siamo su un ordine di grandezza inferiore sicuramente alle macchine metalliche ma comunque siamo sempre con investimenti di un certo livello e soprattutto vi faccio notare che le opzioni di materiale disponibile non sono ampissime ancora perché chiaramente è necessario un lavoro di sviluppo un altro aspetto importante a notare è che Mark Forge lavora a filo quindi con una macchina molto simile a quelle che tradizionalmente abbiamo sulle nostre scrivanie mentre Dexon Metal vedete in questo inset lavora con delle cassettine con barre di polimero che vengono poi alimentate tramite questo sistema è una sorta di levetta che si muove nell'esclusore che è disegnato in maniera particolare su questo mazzinario una macchina particolare che però viene fornita solo come stampante non con le unità di debinding e sindering è quella fornita da pollen che utilizza i pellet e almeno stando a quando riportano i produttori dovrebbe essere in grado di utilizzare qualsiasi feedstock che è disponibile per le macchine di stampaggio e iniezione attualmente però anche qua siamo su investimenti di un certo livello attualmente l'unica alternativa economica diciamo che è presente sul mercato è quella offerta dalla Nanoe che è stata sviluppata per lo più per ceramici ma inizia a essere proposta anche per metalli in questo caso tutto il pacchetto si aggira su un investimento di circa 10.000 euro e come vedete è prevista sia una stampante 3D sia un forno per la sintetizzazione e un'unità per il debinding un'altra macchina che sfrutta un principio simile a quello della pollen è quella offerta dalla AIM 3D quindi vedete che c'è un mercato abbastanza diciamo attivo in questo ambito proprio per questo noi abbiamo qualche anno fa presentato ed è stata approvata ed è in corso il progetto PRIN denominato mamma che come vedete ci vede come capofila ma vede anche la partecipazione di altri partner quali Politecnico di Milano di Torino e l'Università di Sapienza e Benevento e il CNR da dove nasce l'idea di fare questo progetto sicuramente c'è uno stato dell'arte riferito alla stampa a filo che è abbastanza consolidato l'idea è quella di andare a sfruttare le capacità di processo e la semplicità di processo offerte dalla matrice polimerica andando però a combinare un approccio multimateriale il che significa o disperdere particelle metalliche o disperdere particelle ad esempio ceramiche e in un primo step il nostro scopo è stato quello di ed è tuttora capire meglio le relazioni tra processo e struttura perché capite bene qua non si tratta di lavorare solo un sistema polimerico ma un sistema polimerico caricato con degli step successivi quali il debinding e il centering e nel goal finale del progetto è anche previsto quello di andare a realizzare una funzionalizzazione della superficie che può essere importante in applicazioni biomedicali ma non solo faremo vedere un'idea progettuale che stiamo portando avanti nell'ambito della catalisi come vedete nel progetto oltre alla stampa a filo stiamo perseguendo anche la stampa con una resina fotosensibile e in particolare abbiamo a disposizione una macchina demo della Photocentric che permette attualmente di realizzare parti ceramiche successivamente alla sinterizzazione ma utilizzando una stampa in fotopolimerizzazione adesso lascio la parola a Claudio per il caso studio sì buongiorno allora il lavoro che di cui oggi vi parliamo nella presente presentazione riguarda la stampa riguarda la stampa del filamento UltraFuse 316L di BASF sia sul filamento che sulle green part ottenute è stato fatto un lavoro di termoanalisi e caratterizzazione viscoelastica quindi DSC DMA TGA e così via quindi segue quello che è la stampa vera e propria avvalendoci di una stampante desktop relativamente economica e poi l'ottenimento di queste green parts che sono state in autosourcing decerate e poi sintetizzate avvalendoci in questo caso di fast parts che è la divisione interna di Crea3D e successivamente una valutazione degli shrinkage è seguita quindi è stata realizzata sulle parti sintetizzate metalliche e successivamente esegue quella che è la caratterizzazione meccanica vera e propria delle parti ottenute quindi ci siamo avvalsi di una stampante molto quindi relativamente economica quale una Zortrax M200 quindi con un piatto 200x200 mm e una valutazione iniziale di quelli che sono i parametri di stampa ai fini della stampa vera e propria del filamento ci siamo ritrovati bene o male con quanto dichiarato dalle linee guida di BASF stessa sono i parametri che vediamo qui è chiaro che ci tengo a sottolineare sin da adesso forse non sei in condivisione di schermo non so se è un mio problema non riesco a visualizzarlo ok un attimino sì l'overview del lavoro è inutile che lo ripeto perché meno male lo abbiamo già presente quello che è il diciamo il workflow proprio tipico della stampa di metallo quindi bypassiamo questo passaggio dopodiché appunto stavo dicendo adesso penso che lo vedete la Zortrax di cui ci siamo serviti una macchina appunto molto economica i parametri di stampa qui indicati e poi soprattutto quelli che sono i fattori di scala sul piano XY sull'asse Z sicuramente di prima battuta perché poi vanno perfezionati di volta in volta e il lavoro che stiamo facendo noi appunto questo anche capire quella che è la corretta predizione e quindi poi riduzione degli shrinkage lungo i vari assi quindi quelli che sono le leggiamo qui quelle che sono le dimensioni dettate in questo caso dalla normativa in questo caso per la trazione quindi la D638 sono stati incrementati secondo questi due fattori di scala qui presenti lungo i tre assi quindi li leggiamo qui e questo è un momento della stampa tramite appunto la Zortrax proprio perché volevamo caratterizzare da punto di vista della termoanalisi il nostro il filamento ci siamo ritrovati anche qui con la predominanza di una matrice polimerica il picco endotermico che vediamo qui dal termogramma corrisponde a quello che è il picco endotermico del poliossimetilene quindi la matrice polimerica presente e anche quello che è il termogramma che vediamo qui dall'analisi TGA vediamo come la perdita di peso si attesta maggiormente a quello che è il picco intorno ai 330 gradi Celsius attestandosi poi ad un valore di circa dell'89% quindi anche qui ritrovandoci in quanto di grado da BASF cioè dire un 89% di peso residuo che vediamo che è praticamente sostanzialmente il contenuto in particelle metalliche quindi quell'11-10% che va via è sostanzialmente la parte polimerica di cui è composta la matrice matrice che possiamo vedere qui nelle immagini al SEM in questo caso la frattura del filamento e particelle metalliche che come aveva accennato anche il professore Cicala stesso hanno un diametro variabile in un range che va dall'1 al 17 micron circa quindi un diametro medio di circa il 16 micron ma una presenza anche qui come vediamo di una componente polimerica che poi nella green part vediamo fusa proprio per effetto della completa fusione e diffusione della matrice stessa in fase di stampa come vediamo qui sotto il filamento vediamo questo nodo qui si rende molto flessibile per la presenza di un film nell'ordine di circa 50-60 micron che rende appunto l'utilizzo di questo filo come abbiamo visto anche altamente caricato perché parliamo del 90% di carica anche appunto per uso comune nelle stampanti desktop quindi un filo abbastanza flessibile dopodiché però vediamo qui un'immagine dell'Alsem di una green part con presenza già di gap tra un raster e l'altro e ci tengo sin da testa a sottolineare il fatto che l'ottimizzazione della densità di queste parti significa andare a ridurre il più possibile eventuali shrinkage quindi prevederli anche e a ottimizzarne quelle che sono le proprietà meccaniche stesse del manufatto ricordo che questa in questa fase questa stampa è stata fatta con una stampante desktop appunto relativamente economica e quindi a quelle che sono le parti sintetizzate che vediamo qui in figura seguono la valutazione dei ritiri lungo i tre assi ritiri che sono rispondenti a quanto previsto in fase di scalaggio nel momento di stampa per i campioni flat meno invece per i campioni upper right caratterizzate da un comportamento un po' più per così dire anisotropico nel soprattutto nell'asse Z vediamo una differenza sostanziale asse Z che abbiamo già detto essere maggiormente influenzato dalla soprattutto appunto dalla gravità stessa del campione qui in figura possiamo vedere invece i risultati in questo caso le caratteristiche meccaniche dei due campioni delle curve semplificative in rosso vediamo il campione flat la cui immagine relativa al SEM è qui presente in alto e il campione upper right invece lo vediamo in basso sicuramente vi è un trend anche molto famoso e diffuso nell'ambito della stampa 3D quale il flat essere maggiormente connotato da proprietà meccaniche un po' più elevate sicuramente rispetto all'upright ma quello che possiamo vedere qua è la presenza di quei gap d'aria di quella porosità a livello di mesostruttura che vedavamo nelle immagini SEM nelle green part vederli qui ancora una volta tramandati gap d'aria e quindi comunque porosità che vediamo anche nei campioni upright proprio perché qui l'ottimizzazione di stampa è molto importante ai fini dell'ottenimento di parti meccaniche sicuramente con proprietà maggiori e questa differenza la si nota proprio anche rispetto ai valori dichiarati qui in basso in queste due righe da basso nei TDS infatti nelle prime due righe abbiamo riportato i valori che abbiamo ottenuto fuori dalle nostre caratterizzazioni meccaniche valori che sono più bassi rispetto a quanto dichiarato nei datasheet questo perché appunto dobbiamo appunto dire che la ottimizzazione della sound di ottenere parti molto più dense sicuramente aiuta proprio perché i vuoti qua parliamo di circa il 10% di vuoti agiscono come intensificatore degli sforzi poi ci siamo avvolti a quella che è un paragone con le altre tecniche standard di metal e em e possiamo vedere come in generale si hanno delle proprietà meccaniche inferiori rispetto al resto delle tecnologie consolidate nell'ambito metal a parte per metal injection molding in cui ci ritroviamo con valori molto simili rispetto a quanto ottenuto con metal fff c'è da dire anche che paragonare stampe diverse significa paragonare campioni che comunque sono ottenuti con storie termiche differenti e se questo è vero per i polimeri a maggior ragione anche per gli stessi metalli significa paragonare componenti manufatti che hanno subito un annealing piuttosto che altri processi quindi sicuramente stiamo paragonando materiali comunque differenti per le loro storie termiche un'applicazione che abbiamo fatto riguardante un componente che utilizziamo nella nostra injection molding di cui ci avvoliamo insieme al partner al CNR è quella che vediamo qui uno stampo per appunto lo stampaggio iniezione per ottenere dei campioni che ci servono appunto per l'analisi aerologica piuttosto per la conducibilità termica di cui vedremo alla realizzazione del componente stesso quindi Greenpart e parte sintetizzata possiamo vedere l'associazione di un'analisi dei costi analisi dei costi fatta paragonando Medel FFF con la stampante per l'appunto utilizzata e SLM con il riferimento una EOS 400M ciò che è stato subito all'occhio è sicuramente innanzitutto l'investimento stesso quindi il costo che ha la macchina che entra nel costo finale della parte sicuramente abbiamo una macchina che richiede un investimento maggiore come avevamo già appunto il professore Cicala vi aveva anche già accennato in questo caso parliamo di circa un milione e mezzo di euro a fronte di 2000 euro circa di stampante poi sicuramente 100 euro di materiale in confronto ai 330 euro impatta maggiormente nel costo finale della parte c'è da dire una cosa che ancora ad oggi i materiali per Medel FFF sono più costosi rispetto al caso all'analogo SLM nel senso che per comprare una bobina di filamento UltraFuse parliamo di circa 130 euro al chilo mentre l'analoga a polvere costa intorno ai 30-40 euro al chilo quindi il maggiore impatto del materiale in questo caso si spiega con l'esigenza di utilizzare un maggiore quantitativo di polvere polvere che poi noi non useremo per stampare la singola parte tutta quindi alla fine conti fatti abbiamo una parte che costa intorno ai 246 euro contro i 1147 euro circa nel caso di SLM è chiaro che abbiamo già detto sono componenti che hanno una resistenza meccanica differente ma stiamo dicendo anche che sono ottenuti con un investimento irrisorio iniziale successivamente abbiamo avuto bisogno di post trattare quindi tramite sabbiatura o lavorazione di macchina il componente perché la rugosità è di certo non delle migliori subito come stampato poi possono esserci anche altri trattamenti come vibro lucidatura o finitura isotropica e così via e ricollegandomi al progetto interesse nazionale introdotto dal professore Cicala altri esempi che ho anche qui con me ad esempio piccole viti prodotte sempre con lo stesso filamento o delle barrette nel caso di fissatori di placche per la frattura diafisale in questo caso dell'omero o fissatori per la stabilizzazione di colonne vertebrale sono state prodotte ok non è tanto il materiale che per adesso ci interessa come focus è quanto il fatto che poi a valle della produzione di questi manufatti metallici possiamo poi con il bagaglio di esperienza che ha il gruppo andare a funzionalizzare la superficie quindi prevedere una ad esempio una buona osteosintesi una buona proliferazione cellulare o di converso una riduzione di quelle che sono le proprietà la l'antiple la produzione batterica stessa fungina e così via successivamente quindi quelle che sono le la ricerca in corso e futura mi sono concentrato ci siamo concentrati piuttosto sul 316L che è su su altri filamenti ma è chiaro che in casa abbiamo anche altre soluzioni per non parlare perché non è il focus dell'argomento di componenti ibridi metalli ceramici quindi con alluminio di circone e così via il lavoro attualmente in corso prevede la correlazione di quello che è la percentuale di infil con le proprietà viscoelastiche stesse del materiale e poi con quelle che sono le proprietà in termini di conducibilità termica di questi oggetti oggetti che vanno soprattutto utilizzati in applicazioni a temperatura quale per esempio gli stampi metallici stessi e così come la correlazione dei parametri di stampa con altre proprietà meccaniche ad esempio di flessione e soprattutto con la caratterizzazione metallografica come possiamo vedere qui presente come aveva accennato anche il professore Ciccala stesso gli stessi grani metallici hanno una loro conformazione perché la storia termica in questo caso un annealing deve essere tenuta in considerazione grani metallici che hanno un'area di circa 300-3000 micron quadro quindi quando facciamo dei paragoni di monofatti metallici è chiaro dobbiamo tenere in considerazione anche l'aspetto soprattutto l'aspetto del trattamento termico dopodiché abbiamo parlato di una stampante relativamente economica ora andiamo chiaro a correlare quelli che sono i parametri di stampa e l'ottimizzazione dei parametri ai fini di ottenere una parte green altamente densa perché ottenere una parte green altamente densa significa andare a ridurre il più possibile i ritiri lungo i tre assi quindi prevederli pure e ottenere dei sintetizzati sicuramente altamente performanti questo lo abbiamo fatto anche grazie all'utilizzo appunto di software più aperti quindi meno chiusi come Zortrax in questo caso avvolendoci della ultimerica che abbiamo visto all'inizio nella presentazione del gruppo la S5 in questo caso lascio di nuovo la parola alla professione per ultimare la presentazione grazie Claudio vediamo se riesco a condividere il mio schermo ok poi non credo ci sarà tempo per la parte relativa io vi rubo un attimo perché vi farò vedere solo due slide la prima è questa come detto oltre alle tecniche a filo esistono anche altre tecnologie che sono attualmente utilizzate in particolare tecniche che utilizzano resine noi abbiamo detto che abbiamo la macchina della fotocentrica ma un concetto simile è quello anche utilizzato da Incus e da Atmatec che addirittura riesce già a lavorare il rame e infine un esempio che stiamo sviluppando è quello rappresentato qua in figura si tratta di un catalizzatore per filtri ad aria in questo caso noi oltre a combinare polimero e metallo stiamo pensando di applicare un layer ceramico in maniera tale da avere una superficie ceramica più adatta a ricevere una soluzione trattamento con soluzioni catalitiche in maniera tale da rendere questo filtro attivo questa idea è basata su un qualcosa che è già stato pubblicato da Gonzales Glutierrez in questo esempio qua vedete una stampa dove la base è stampata con un polimero caricato in metallo e sopra viene ricavata una pista in zirconio sempre con stampa a filo quindi è possibile anche realizzare materiali ibridi con questo abbiamo concluso vi lasciamo anche i nostri contatti perché siamo sicuramente disponibili qualora ci fossero domande o perplessità o interesse verso il tipo di attività grazie Gianluca grazie Gianluca e grazie Claudio per aver condiviso con noi la vostra esperienza per quanto riguarda la stampa dei metalli rispondo provo a rispondere ad alcune delle vostre domande se non l'avete già fatto vi invito ad attivare la chat dalla vostra barra di controllo nella voce altro troverete il menu chat e potrete interagire direttamente con noi rispondo subito a una prima domanda relativa alla stampante più indicata per la stampa di questi filamenti metallici BASF allora per quanto riguarda la stampante il mio consiglio è quella di utilizzare la stampante che BASF stessa consiglia per la stampa di questi materiali ovvero la Ultimaker S5 a differenza di altri marchi di stampanti quali possono essere magari Zort, Trax o Rice per Rice in realtà abbiamo già un profilo di stampa ottimizzato direttamente da BASF per Ultimaker invece la Ultimaker S5 nel marketplace gratuito del software di Slicing Cura trovate già un profilo di più profili di stampa ottimizzati per diverse altezze di layer per quanto riguarda i filamenti metallici perciò il consiglio che posso darvi è di utilizzare questo tipo di stampanti Ultimaker S5 S5 S3 quindi una serie che permette di utilizzare un ugello in rubino per la stampa di questi materiali per quanto riguarda i trattamenti di defining e sinterizzazione ancora non abbiamo un consiglio su quello che è il forno da poter inserire in house che non sia diciamo con un costo inferiore comunque ai 10.000 euro come accennava magari Gianluca in una delle sue slide di fatti la soluzione di NanoE non è ancora magari pronta per la commercializzazione sul mercato mentre per quanto riguarda appunto le fasi di demanding e sinterizzazione il mio consiglio è quello di affidarvi a un service come FastParts che vi può appoggiare o comunque supportare almeno nella fase iniziale di utilizzo di questa nuova tecnologia che di fatti permette di stampare filamenti metallici con qualsiasi stampante desktop presente in commercio sì vi inserisco in chat il contatto dell'azienda FastParts per chi lo chiede lab chiocciola fastparts.it se non ci sono altre domande io concludere qui la trattazione ringrazio ancora Claudio e Gianluca per la partecipazione all'evento e vi do appuntamento ai prossimi webinar potete controllare dai nostri profili social profili social di Crea3D o comunque dalla pagina webinar sul sito crea3d.com i prossimi eventi grazie a tutti per la partecipazione vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti di crea3d.com di crea3d.com di crea3d.com